Per iniziare ho una sonata di Paganini, una sonatina. Paganini come non molti sanno, ma era anche un chitarrista. Ha composto diverse sonate per la chitarra, una gran sonata, poi i quartetti con la chitarra. Era un appassionato che era intanto a Giovanini e magari ha pensato di fare un concertista di chitarra, poi si è dedicato al violino. Comunque le sue Paganini e le sue composizioni anche orchestrali spesso utilizzava la chitarra anziché il pianoforte per accompagnare, per scrivere le partiture. Grazie a tutti. Sono molto forte. Grazie. 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 Grazie a tutti